Musica Ad attenderci un weekend di maltempo prolungato in cui tornerà anche la neve a quote molto basse per il periodo colpa dell'area artica in arrivo dall'Europa settentrionale che darà vita a un insidioso vortice ciclonico che per molti giorni interesserà il nostro paese. Come riportano gli esperti del Meteo.it dopo una prima parte di sabato piuttosto solegiata e con clima mite le prime avvisaglie del cambiamento del tempo si vedranno nel pomeriggio sull'arco alpino e sulla Toscana settentrionale con le prime piogge. Dalle primissime ore di domenica 11 ottobre il maltempo investirà la Lombardia e il nord-est con possibili nubi fragili anche sul golfo di Trieste. Piogge temporali si porteranno rapidamente anche su Toscana, Umbria e Lazio, Roma compresa. Con l'arrivo dei venti più freddi la neve comincerà a scendere sulle Alpi a quota via via più basse e fin sopra 900 millimetri di quota. Musica 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 Musica